Tre punti vitali per la polisportiva che vince lo scontro diretto contro le clanesi, distanziandola di quattro lunghezze. Un match vinto con il cuore dalla squadra di Pirozzi, che l'ha spuntata nel finale con una magia di Manzo, match winner contro gli Irpini. Diverse le assenze per la squadra locale, che deve fare a meno, causa squalifica post Cervinara, Adesio, Fernando e Fariello. Il match vede partire bene gli Irpini, che provano a rendersi pericolosi prima con Capone e poi con Grillo. Siamo al nono minuto di gioco. Al decimo invece Santo Suosso a provare la via della rete, ma Spicuzza fa buona guardia. La risposta della polisportiva arriva all'undicesimo con Margiotta, autore di un'ottima prestazione, e poi ancora con Morena al tredicesimo, che alza però troppo la mira al termine di una bella trama di gioco. Al diciassettesimo refice da fuori aria calcia centralmente, prima del vantaggio della polisportiva, che arriva al ventunesimo, quando Pasquale Manzo è bravo a finalizzare un'azione sull'out di destra, sosprendendo la difesa ospite. Leclanese torna a farsi viva con Santo Suosso, tra i migliori della squadra allenata da Mr. Martino. Siamo al ventisesimo minuto di gioco, mentre la polisportiva, 60 secondi dopo, con Margiotta, prova a trovare l'Eurogoal. Alla mezz'ora, Orefice non è preciso nella sua battuta a rete, mentre sei minuti dopo, Pasquale Manzo costringe l'estremo difensore ospite a un intervento. In avvio di secondo tempo ci sono diverse occasioni. Una per parte, Pasquale Manzo calcia a lato, mentre Orefice trova pronto spicuzza. La polisportiva giunge al raddoppio al minuto 53. Margiotta lavora bene un pallone sul settore destro. Della Campo, servendo un assist al bacio ad Altieri, lestissimo ad arrivare per primo sulla palla per il 2-0. Leclanese torna in gara al ventunesimo con Picozzi. Da poco entrato in campo, che si fa trovare pronto in aria, sfruttando la complicità di una retroguardia locale disattenta. Il pari ospite arriva, un po' a sorpresa, a otto minuti dalla fine, con Verrilli, che capitalizza al meglio un contropiede, facendo calare il gelo sul pubblico del Carrano. Quando tutto sembra far presagire alla pari finale, arriva però la prodezza di Manzo. Il 10 giallorosso pennella al novantesimo una punizione che toglie la ragnatela sotto l'incrocio. Esplode il pubblico di fede giallorossa e termina così 3-2 una gara vibrante e dalle mille emozioni.